Il loro piano per il nostro futuro. Ascoltate bene, voi, senza testa, schiavi sottomessi che leccate le scarpe di chi vi sta sopra. Le classi dominanti comandano i governi e le oligarchie che si sono incontrate a Davos, il Forum Economico Mondiale, le Nazioni Unite hanno progettato piani malefici per il nostro futuro. Non si tratta di cospirazione sciocchi e rimbambiti, si tratta di fatti ben prestabiliti. Il potere di chi non è stato eletto, di chi non è stato scelto, che non dovrebbe esserci, ha pianificato un unico e solo mondo di tracciamento e di impronta digitale per il 2030. Questi furfanti parassiti non nascondono nulla dei loro piani riguardo il nostro futuro. Basta semplicemente verificare il sito web del World Economic Forum o leggere l'agenda delle Nazioni Unite riguardo i 30 sistemi di sviluppo. Il fatto che vi fidiate delle persone che vi fanno pagare per la vostra esistenza, più dei vostri amici e dei vostri parenti, significa che state soffrendo la sindrome di Stoccolma. Siete stati addestrati, addomesticati per essere del bestiame umano che erra nella piantagione delle tasse. Siete stati allenati ed abituati ad adorare il monopolio del denaro che non ha nessun valore. Questo sistema serve solo chi è al potere per controllarci. Siamo noi che facciamo funzionare il loro losco sistema mentre loro vivono come dei alle nostre spalle. È tempo di togliere il prosciutto dagli occhi e smettere di pagare i bugiardi che ci mentono. È tempo di fondare il nostro proprio sistema progettato per vivere liberi, non quello di servire chi ci tiene schiavi. Grazie a tutti i nostri spettatori e grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e grazie a tutti i nostri spettatori e grazie a tutti i nostri spettatori.